... Mercoledì 6 ottobre, buongiorno a tutti voi, sono le 7 del mattino, è il momento di guardare insieme i giornali. Allora una brevissima anticipazione, si parla molto, lo vedremo nell'apertura soprattutto dei principali quotidiani, di quello che già viene definito lo strappo della Lega rispetto al Governo. Che cosa è successo? È successo che ieri il Governo, riunito nel Consiglio dei Ministri, ha parato la riforma del fisco senza la presenza però dei rappresentanti della Lega. Salvini ha convocato una conferenza stampa, ha fatto sapere che il tempo per poter visionare i documenti da approvare era ridotto, ha detto che in mezz'ora non si può, neanche fosse l'oroscopo, così ha detto, e quindi ci siamo presi un tempo maggiore rispetto a quello che c'era stato dato. Il Governo però del Premier Draghi è andato avanti comunque, ha varato comunque la riforma del fisco. E questo chiaramente ha avuto delle conseguenze politiche, lo andremo a vedere con alcune interviste dei leader principali. Naturalmente si parla però anche del dopovoto in vista dei ballottaggi, si discute, si analizza appunto il voto delle amministrative e si ragiona soprattutto però anche sul forte assenzionismo. Questo per quanto riguarda la politica. E poi una buonissima notizia, quella del Nobel che è stato assegnato ad un italiano, a Giorgio Parisi, è una cosa che chiaramente riempie di orgoglio tutti noi italiani. Andremo a vedere perché ci sono anche delle interviste proprio con il vincitore della Nobel per la fisica. E poi ci sono anche questioni relative invece ad inchieste giudiziarie e a molto altro ancora. Andiamo a vedere, partiamo dal Corriere della Sera, il titolo d'apertura. Salvini strappa, Draghi va avanti. Varata, la delega fiscale, la lega diserta, Draghi spiegheranno perché il Premier si è limitato a commentare così. Dice aspettiamo le spiegazioni che ci darà appunto Salvini. Salvini che ironicamente dice non è l'oroscopo. E poi in alto il capogruppo del Carroccio Molinari ci stanno accompagnando alla porta. Il centrodestra verso un vertice di leader. C'è il commento del direttore del Corriere della Sera per quanto riguarda il voto, in particolare l'assenzionismo, Luciano Fontana. Andiamo a leggere qualcosa del suo editoriale, partendo dal titolo. Le illusioni cadute con il voto, svanita la nebbia delle reazioni a caldo, degli entusiasmi eccessivi e delle depressioni mascherate. Tutti i partiti dovranno fare i conti con la realtà che le urne ci hanno messo di fronte, evitando l'enfasi di chi si sente vincitore e non sottovalutando i segnali chiari inviati dagli elettori. La bassa partecipazione al voto dimostra che metà degli italiani non ha trovato una motivazione giusta che la spingesse a esercitare uno dei diritti fondamentali dei cittadini. Questo all'inizio del commento del direttore del Corriere della Sera Fontana. La fotonotizia, restiamo ancora un momento sulla prima pagina del Corriere della Sera. Il Nobel al fisico del volo degli storni all'italiano Parisi per gli studi sui sistemi complessi. Davvero una bellissima notizia. La Repubblica, l'apertura è proprio sull'assegnazione del Nobel per la fisica a Giorgio Parisi. Fisica che salva il clima. Eccolo qui, acclamato dagli studenti. Una figura poi tra l'altro così molto simpatica, ben voluta dagli studenti della Sapienza all'Università di Roma. Il titolo centrale però è sullo strappo di Salvini. Vedete il titolo scelto da Molinari, dal direttore della stampa, non da adito ad equivoci. Lo strappo di Salvini, i suoi ministri disertano il vertice di governo sulla riforma, nessun voto in bianco. Draghi va avanti lo stesso, il leader leghista chiarisca questa la sostanza del commento del Premier. Cambia una liquote, IRPEF, deduzioni, potenziata la lotta all'evasione, nuovo catastro dal 2026. Il Premier assicura, dice, nessuno pagherà di più o di meno. E poi stiamo, però restiamo sulla prima pagina perché, vi dicevo, ci sono anche delle inchieste giudiziarie che coinvolgono anche alcuni esponenti della medicina che abbiamo imparato a conoscere durante questo periodo della pandemia. Tra questi coinvolto, indagato, come scrive appunto il titolo, c'è anche il virologo Galli. Eccolo qui, Università, concorsi truccati, indagato con altri 32, il virologo Galli. Andiamo a vedere la stampa. Salvini apre lo scontro con Draghi, lo vedete, la notizia di apertura è sempre questa. Approvata la delega, i ministri del Carroccio lasciano il Consiglio dei Ministri, il Governo catastro, nessuno pagherà di più. E poi sotto, il leader della Lega sul fisco, metodo sbagliato, non è l'oroscopo, Letta è intervistato da alcuni quotidiani, il segretario del PD gravissimo, il Premier, io non mi fermo. E allora, poi sotto la fotonotizia, eccolo qui, ancora una volta, Giorgio Parisi, Beautiful Mind, questo è il titolo scelto nella fotonotizia per dare appunto la notizia del premio Nobel per la fisica assegnato appunto a Parisi. Vediamo il messaggero. Il Nobel al fisico Parisi, erede di Via Pannisperne, il professore romano al telefono, pensavo fosse uno scherzo quando l'hanno chiamato, non pensavo che fosse realmente una notizia vera. E poi riforma fiscale, strappo, lega, i ministri del Caraccio di Sertano al CDM che dà via libera alla delega sul fisco, scontro sul catastro, Draghi, Salvini deve spiegare, il leghista cambi metodo. E poi ve ne abbiamo dato conto anche ieri mattina, questo rogo che c'è stato a Roma in un deposito degli autobus dell'Atac, quasi 30 mezzi che sono appunto andati a fuoco. Il rogo dei bus Atac, ipotesi, c'è anche quella del sabotaggio. Questa è la prima pagina del messaggero, sono le 7 e 6 minuti. Diamo la linea subito alla regia, qualche istante di pubblicità e ci rivediamo subito dopo il tempo di bere un caffè. Vi aspettiamo tra poco. 11 minuti dopo le 7, ben ritrovati. Prima pagina del Sole 24 Ore. Andiamo a leggere insieme il titolo d'apertura. Riforma per IRPEF, IVA, IRAP, Catasso, la Lega diserta, Draghi commenta e dice spiegherà. E poi la fotonotizia, il Nobel della fisica, Giorgio Parisi, scusate induggiamo molto ma è veramente una notizia che ci riempie di orgoglio. E accanto conti pubblici, primi rilievi, crescita ok, rischio debito. Il fatto quotidiano. Sorpresa, ha perso voti pure chi ha vinto. Naturalmente il titolo è sul primo turno delle amministrative. Altro che sconfitta populista è vittoria moderata. Retromarcia, sala poco sopra i dati 2016. Tutti gli altri dem arretrano centro irrilevante. Boccia, PD con il Movimento 5 Stelle e moderati. Questo è il titolo del fatto quotidiano che dà però, vedete, anche molto risalto all'inchiesta giudiziaria con Corsopoli Universitaria. Così Galli si farà arrestare. Perquisizione a Milano, Roma, Torino e Palermo. Questo è il fatto quotidiano. Vediamo il domani. Draghi mette subito in crisi Salvini che contesta la riforma del fisco. Crepe nella maggioranza. Il ministro Garavaglia lascia il tavolo sulla delega fiscale. Assente anche Giorgetti. Il testo prevede il ricalcolo delle rendite per gli immobili ma rimanda le eventuali tasse a dopo il 2026. E poi questo commento. L'effetto Draghi svuota di senso l'approccio delle due destre. Salvini e Meloni in difficoltà. Andiamo a vedere un altro giornale. È il Foglio. Il Foglio è il suicidio quotidiano della destra. Questo è il commento del direttore Cerasa, tra l'altro Viseniano, che sarà ospite subito dopo il telegiornale al dibattito condotto da Alessandra Sardoni. E allora vediamo che cosa scrive nel suo commento. I candidati nelle città non sono l'infortunio ma lo specchio fedele di quello che il centrodestra è. Confuso, estremista diviso e il peggio deve ancora venire. Guida dopo i capricci in Consiglio dei Ministri con la Lega fuori. Vi segnalo anche un commento di Giuliano Ferrari. Eccolo qui. A Bemus Papam. Di chi parla? Parla del risultato ottenuto da Calenda Roma. Il risultato di Calenda. La Santa Romana Sinistra è la responsabilità di un'innovazione possibile. Vediamo brevemente cosa scrive Ferrara. Carlo Calenda ha detto di non aver centrato l'obiettivo di governare Roma. Non voleva fare testimonianza. Io sono un esperto di testimonianza. Al Mugello contro Di Pietro e alla carovana dei finti progressisti sull'aborto. Contro tutto e tutti. Vent'anni dopo i risultati del testimone si conoscono. Promosso per Tigna e bocciato irrimediabilmente per ineffettualità in entrambe le occasioni. Una possibilità alla trombatura che mettevo forse nel conto. Ma Calenda ha avuto invece una doppia promozione per Tigna e per un risultato politicamente molto utile. Scandalosamente utile per corposità. Utile alle sue idee, al suo branco di volontari accaniti, alla sua area d'opinione, al suo progetto riformista. Così commenta Giuliano Ferrara il risultato ottenuto da Calenda a Roma. Il giornale. Delega fiscale, i tassatori ci riprovano. La sinistra già spinge per più imposte. Ma al centro-destra fa slittare al 2026 la riforma del catastro. Dubbi su Iva e Irpe, fa la Lega di Serta in CDM e sfida Draghi. Brunetta è la vittoria di Forza Italia. La casa non si tocca né ora né mai. Il commento del direttore Menzolini. Miraggi, questo è il titolo del suo editoriale. Editoriale. Andiamo a vedere ancora un altro giornale. Libero. Salvini sfida Draghi. Crisetta di governo, la chiama. Tasse e catasso. La Lega boccia la riforma. Il premio è il gesto serio. Matteo no, da Lega in bianco. Attacco a Fratelli d'Italia. Fidanza inquisito per riciclaggio. E poi, vedete il professor Galli. Ha favorito due candidate. Indagato, associazione a delinquere. Chiaramente ancora tutto da dimostrare. È indagato, appunto. Vediamo Alessandro Sallusti. Il suo editoriale. In un'altra era, ma anche in questa, se ci fosse un diverso premere, oggi saremmo a raccontare una crisi di governo. Ma l'era è questa. Il premere si chiama Mario Draghi. Per cui al massimo parliamo di una crisetta. Vorrei ma non posso far cadere questo governo. che vuole mettere naso nelle proprietà immobiliari degli italiani e rivedere le tasse. Questo l'inizio dell'editoriale del direttore. Vediamo il manifesto. Gualtieri, slalom tra Conte e Calenda. Si torna a parlare del voto per le amministrative. Si aprono i giochi per il ballottaggio romano. Michetti per Meloni. Battaglia decisiva. E poi questa foto, con le braccia aperte del leader della Lega, Matteo Salvini. Fisco per fiasco. Il flop elettorale fa saltare i nervi a Salvini. E la Lega diserta del Consiglio dei Ministri sul fisco. Draghi in conferenza stampa. Gesso serio. Ne spieghi le implicazioni. Il leader del carroccio ribatte. Cambi metodo. Letta, Enrico Letta. Strappo gravissimo. E riunisce i ministri e i Dem. Andiamo a vedere la verità. Tassa verde. Minaccia sulle case. La Lega strappa. Traditi i patti. Come anticipato dalla verità. Draghi tira dritto su fisco e catasso. Il professor Galli trucca i concorsi. Indagato. Associazione a delinquere. E è falso. E vediamo avvenire. Delega fiscale al Via. Il governo si divide. Questo è il titolo scelto dal giornale diretto da Tarquinio. E poi la fotonotizia. A Parisi il Nobel della Fisica sprone alla ricerca in Italia. Però c'è anche lo spazio per riportare la notizia degli abusi che ci sarebbero stati in Francia da parte di religiosi. Francia sotto shock. E si è detto molto molto addolorato anche il Pontefice naturalmente per i risultati di questa inchiesta. Allora andiamo a vedere gli approfondimenti. Partiamo dal Corriere della Sera. Partiamo dalla notizia del fisco. Riforma fiscale. Il caso Lega. Draghi. Ora Salvini spiegherà. Il governo approva la delega. Eccolo qui. Il carroccio diserta la riunione. No d'aumenti. Tensioni nell'esecutivo. Eletta convoca i ministri e i PD. In questa pagina però vediamo anche quali sono i punti toccati dalla riforma fiscale. Vi leggo soltanto i titoli naturalmente. IRPEF. Taglio graduale delle aliquote medie. IRES. Meno adempimenti per le imprese. IVA. Riordino complessivo anti-evasione. Nella pagina accanto ci sono anche gli altri provvedimenti. Quello che riguarda l'IRAP. Tassa da superare gradualmente. Il catastro. Rendite di mercato. Ma senza gravi. E poi regioni e comuni addizionali sostituite da sovraimposte. Restiamo però a pagina 3 del Corriere della Sera. Andiamo a leggere il retroscena di Francesco Verderami. Anche Verderami sarà ospite più tardi di Alessandra Sardoni. E allora c'è il Draghi della cabina di Regie. Il Draghi del Consiglio dei Ministri. I due diversi atteggiamenti del Premier fanno capire quale sia il suo metodo di gestione della larga maggioranza. Il suo rapporto con Salvini. In tarda mattinata, quando il Ministro del Regista Caravaglia solleva problemi di merito e di metodo sulla riforma del fisco, il Presidente del Consiglio comprende che il nodo è solo politico. Perciò non accoglie la richiesta del Carroccio di posticipare il valo del provvedimento. E lo fa con una battuta che non lascia adito a dubbi. Se vuoi usare questi 20 minuti che abbiamo a disposizione per esaminarlo. Questo è quello che avrebbe concesso il Premier alla richiesta della Lega. Cambiamo giornale. Andiamo sulla stampa, pagina 7. Perché? Perché c'è un'intervista a Giulio Tremonti che conosce bene il settore del fisco e quant'altro. E allora che cosa dice? Vi leggo soltanto il titolo. Un suicidio politico o toccare il catastro? Governo timido sul taglio del Cuneo. L'ex Ministro del Tesoro. Prima e seconda casa sono il DNA degli italiani. Non un investimento qualunque. Quindi una critica molto forte quella che arriva appunto dall'ex Ministro Tremonti. Allora, torniamo sul Corriere della Sera perché c'è un'intervista al capogruppo del Carroccio Molinari che dice che è accaduto un fatto molto grave. Ci accompagnano verso la porta. Come dire, non siamo noi che vogliamo aprire la crisi ma ci stanno mettendo in condizione di spalle al muro. Come dire, questo Molinari. Andiamo a vedere ancora un'altra intervista sempre sul Corriere della Sera ad Enrico Letta che qui brinda perché è stato eletto nel collegio di Siena ma anche per il risultato ottenuto dal PD al primo turno delle amministrative. A proposito di Salvini, ecco il titolo. Problema per l'Italia, un atto irresponsabile. Così prova a far saltare il banco. Leggiamo la prima domanda che gli ha fatto Monica Guersoni. Salvini uscirà dal governo? Vediamo come risponde Enrico Letta. Non lo so, sta a lui chiarire ma c'è un esso evidente tra il disastro elettorale della Lega e il tentativo di far saltare il banco. Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul premio, gli ha dato del bugiardo e chiede agli italiani di scegliere tra lui e Draghi. Noi difendiamo il Premier e penso anche gli italiani. Così è la prima risposta che dà Enrico Letta in questa intervista che trovate sul Corriere della Sera. Andiamo avanti perché c'è anche un'altra intervista sulla stampa. Il Ministro Orlando interviene naturalmente sempre su questa crisi vera o presunta aperta dalla Lega. Basta con l'ambiguità, così saltano i fondi dell'Unione Europea per la ripresa. Il Ministro del Lavoro, lo strappo sul fisco è grave e preoccupante non tanto nei confronti del Governo ma del Paese. Rapidamente c'è l'analisi di Massimo Franco a proposito di quanto accaduto. Ecco il titolo, l'assist involontario della Lega agli avversari. Allora io mi fermo perché il tempo a mia disposizione sta finendo. Do la linea con qualche momento di anticipo in più a Paolo Sottocorona, una volta tanto. Paolo è inevitabile dirti quello che sta accadendo con questa perturbazione. Cristian, ieri in Sicilia veramente la zona di Catania è stata colpita molto duramente. Ce ne avevi parlato ma che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore? A te Paolo, buongiorno. Grazie Fabio, buongiorno. Ci dobbiamo aspettare ancora un tempo molto instabile, quindi fenomeni localmente anche forti. Il tutto però piano piano, non dico che si attenui, ma si sposta un poco. Quindi su qualche zona l'attenuazione dei fenomeni ci sarà. Intanto per la situazione di questa mattina si ha ancora una certa attività temporalesca. Sullo stretto di Sicilia, vedete questi temporali fra Pantelleria e Lampedusa. E poi questa zona un po' più bianca, sapete che bianco significa nuvole più fredde, quindi sono più alte, più sviluppate, che stanno interessando il centro. E qualche traccia di temporale ancora al nord, quindi vedete che non è una situazione tranquilla neanche in queste prime ore del mattino. La previsione per la giornata di oggi, siccome ormai andiamo a colori, ma insomma è una modalità anche molto intuitiva, immediata. Vedete che sul nord-est, ancora sull'Emilia, ancora sulla Lombardia, questi colori che vanno dal giallo al rosso, che significano precipitazioni molto intense. Molto intense, molto intense. Ancora per la giornata di oggi, fenomeni localmente intensi anche sulle zone del centro, al sud, ancora una volta vedete in prossimità della Calabria, della Sicilia, dove si attenuano i fenomeni. Sulla parte occidentale, quindi questo asse, Piemonte, Corsica, Sardegna. Lì la giornata già tende un po' al meglio. Questa situazione non passa facilmente, l'abbiamo detto, non è il passaggio di una perturbazione. C'è una zona di bassa pressione, quelle si muovono molto lentamente. Infatti per tutta la giornata di domani troviamo una certa attenuazione dei fenomeni sulle zone del nord. Però ancora guardate sull'Emilia-Romagna, guardate sulle Marche, sulle zone interne, del centro, sull'Umbria, e poi sul basso Tirreno. E poi guardate questa zona, è vero che è quasi fuori confini, ma ancora potrebbe interessare la Puglia, il Salento. E qui è un maltempo fortissimo, quindi ancora domani escono un po' le zone più settentrionali, ancora quelle occidentali, da questo giro, ma ancora i fenomeni ci sono. Arriviamo a venerdì, qui qualche miglioramento ulteriore al nord, sul medio Tirreno, però guardate ancora questa linea che parte proprio dall'Appennino settentrionale, prende tutto il versante adriatico, il sud, guardate ancora in Puglia, in Calabria, in Sicilia, fenomeni ancora intensi. Quindi dicevo, non passa facilmente, ci vuole veramente molto. I due flash finali, le temperature minime, non sono scese molto, in questo contesto di solito scendono più le massime, infatti così hanno fatto. Lo stato dei mari che vede una zona diciamo abbastanza critica sul medio-alto Tirreno, sui mari di Corsico e Sardegna, il giallo indica un mare molto, cioè fra agitato e molto agitato, il che prevede delle onde che vanno dai 4 fino ai 6 metri, non è poco. Se volete ci vediamo alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio. da te tardi.